Va per offendere Noemi Bocchi ma incappa in una epic fight e sta facendo il giro del web. Nelle scorse ore, un utente di Twitter si è scagliata pesantemente contro la nuova presunta fiamma di Francesco Totti. Noemi Bocchi, foto, chi? Il commento al veleno contro Noemi Bocchi. Signorina mi dispiace ammettere che ha fatto bene i conti, ha approfittato del periodo nero che il suo amante sta passando per mandare all'aria una famiglia. Non pensa che i figli di Totti passeranno dei periodi neri, portandoli a un crack del proprio carattere? Pu asterisco 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 a, ha sentenziato la signora che però ha sbagliato tag, Noemi, foto Instagram, la replica della cantante Noemi. Anziché tirare in ballo la flower designer che avrebbe rubato il cuore dell'ex capitano della Roma, ha chiamato in causa la cantante Noemi che non ha mancato di sottolineare l'errore. Mi sa che lei ha sbagliato tag, l'avvisata, la replica di Noemi. Io al massimo ve posso canta una canzone. La replica di Noemi è stata ripresa da Trash Italiano, con tanto di screenshot. Io al massimo ve posso canta una canzone, ha commentato divertita la cantante. Sono solo parole, ha ironizzato un utente parafrasando un suo famoso brano. Le sue, ha ribattuto lei. Francesco Totti e Noemi Bocchi Foto, chi, il gossip, Noemi non si considera la causa della rottura tra Ilari e Totti. Nel frattempo, non si placa il chiacchiericcio su Francesco Totti e Noemi Bocchi. Il settimanale, di più, riporta parole che sarebbero attribuibili alla nuova fiamma del pupone. Noemi non si considera la causa scatenante della rottura tra Ilari e Totti e vorrebbe uscire allo scoperto con lui, smettere di nascondersi, anche perché la loro relazione non è solo un flirt, ma qualcosa di più importante. Ilari Blasi Foto Instagram Il confronto in tribunale tra Totti e Ilari è sempre più vicino, nel pieno della tempesta matrimoniale. Francesco ancora non se la sente di vivere alla luce del sole la relazione con Noemi, anche perché all'orizzonte c'è il confronto in tribunale con Ilari per la spartizione del loro cospico patrimonio, affermerebbero invece gli amici di Totti.